Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in questa giornata esclusiva che è stata organizzata con la collaborazione dell'Ossia Mare e che è un assaggio del Summer Camp Soccer Training Pro. I protagonisti di questa giornata saranno i nostri figli e il nostro scopo, il nostro compito è quello di aiutarli e guidarli nel cercare di tenere alto e sempre forte il loro sogno che è quello poi di essere un giorno come gli eroi dello sport, quindi come i calciatori professionisti, questo è il loro sogno e noi cerchiamo di alimentare questo sogno con la nostra, con le nostre competenze, cercando di dargli il massimo, ma lo spirito deve essere uno spirito ludico. Lo slogan del metodo che ho ideato per i bambini è che il divertimento è uguale all'apprendimento, grazie al divertimento i bambini si emozionano e danno il meglio, sono motivati per tirar fuori il meglio di loro. Quindi ringrazio tutti voi per la vostra presenza, ringrazio l'Ossia Mare che ha accolto questo progetto con entusiasmo, ringrazio tutto lo staff tecnico dell'Ossia Mare che oggi è qui con noi e parteciperà durante le giornate, ringrazio anche i collaboratori esterni che vengono da altre società che sono venuti qui per vedere anche il nostro metodo, questo metodo che utilizziamo con i bambini. Vi spiego com'è strutturata la giornata, l'obiettivo è quello di allenare i bambini dal punto di vista tecnico, fisico, tattico e cognitivo. Quindi la giornata è strutturata in riscaldamento, warm up con la musica, quindi andiamo subito a stimolare dal punto di vista ritmico, poi dividiamo tutti i bambini in sei stazioni. In una stazione faranno anche un test coordinativo, perché comunque è importante conoscere il livello iniziale di ogni bambino, in base a quello poi strutturiamo un percorso. E poi faranno tutte esercitazioni integrate, che significa? Significa che andremo a lavorare sia sugli aspetti motori, ma anche sugli aspetti tecnici e tattici, in uno stesso esercizio, in modo tale che il bambino si diverte e nello stesso tempo migliora la sua coordinazione e sviluppa il bagaglio motorio. Siete pronti per cominciare? Mamma mia, però non mi sento carichi. Più forte. Uno, due, forza. Perfetto. Un applauso a tutti i bambini prima di cominciare. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Destra, sinistra. Uno, due. Facile, eh? Tutti di qua, tutti di là. Vai, vai, vai. A venire insieme a me, eh? Qua e di là. Ginocchia un pochino piegate. Su, su. Bravi. Vai. Patte le mani. Vai, vai, vai. Su, su. Partiamo da una cosa semplice. Senti il ritmo. Guardate me. Bravissimi. Vai, 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 vai. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, due, tre, otto, otto, otto. Guardi la braccia e gambe. Vai, vai, vai. Forzetta sul posto. Movi le braccia. Movi da 90 gradi. Su. Bravi, ragazzi. Bravi su. Mettita nei piedi, eh? In questo modo. Su gli avanti piedi. Su le punte dei piedi. Movi le braccia. Insieme al ritmo. Terra. Vado a terra. Così, così. Stai in questa posizione. Tutti su. Su, 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 tipo sul posto. Adesso fare tutto quello che faccio io, eh? la gamba in equilibrio. Tutti in equilibrio. Tocca la mano. Tocca con la mano. Uno, due, tre. Skip. Per terra. A terra. Veloci. Tutti su. Su l'altra gamba. Un braccia. Due braccia. Vai, 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 vai. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. A terra. Tutti a terra. Vediamo chi si alza nel primo, eh? Pronti? Via. Tipo sul posto. Via. Apro il crudo. Apro il crudo. Apro il crudo. Apro il crudo. Si chiama due. Uno, due. È l'ismo. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno. A uno ho fatto le mani, eh? Uno, due, tre, quattro. Adesso facciamo una sfida. Facciamo una sfida. Dieci palleggi. Senza farla mai cadere. Un palleggio. Qualcuno lo riuscirà a fare bene. Qualcun altro farà un po' fatica. Non devi mai cadere. Faccio. Uno, due, Sette. Otto. Nove. Dieci. Stop. Alza la mano chi ha fatto dieci palleggi. Ammattia. Facciamo un applauso ai mister. Comunque continui che hanno allenato bene. Ok, va bene ragazzi. Pronti per cominciare? Ciao amici di Soccer Training. Siamo nello stage, nel clinic Soccer Skills Training all'Ossia Mare. e vi mostrerò adesso un esercizio che sviluppa la visione periferica del calciatore con la strumentazione con led luminosi. Quindi vanno a lavorare su, i ragazzi vanno a lavorare sulla capacità di reagire a stimoli visivi. Ve lo mostro subito. Via. Si parte in guida della palla, si accende la luce. Dove si accende la luce parte il difensore e diventa un uno contro uno. Dove si accende la porta? Pronto? Via. Veloce. Si accende la luce rossa, parte il difensore che si trova in corrispondenza del lato della luce rossa. Faccio un altro. Pronto? Via. Guida della palla, alza la testa, è obbligato ad alzare la testa il calciatore. E a reagire velocemente allo stimolo visivo. Pronto? Pronti? Vieni. Via. Tira! A bordo! Vieni. Vieni. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti e ci vediamo presto. Ciao.